Il più grande show americano di Jimmy Fallon, si esibiranno a New York, a Las Vegas e apriranno il concerto dei Rolling Stone, quindi insomma veramente grande successo, siamo molto felici Allora, grande successo anche per Paola Barale al teatro qui a Roma, al Manzoni con Paola Quattrini che è collegata con noi da lì, buonasera e benvenuta Dove è che non la vedo? Ecco, eccola lì, lei è veramente quasi pronta Ciao Paolina Quanto manca lo spettacolo, tra poco devi precipitarti Tra poco devo andare Raccontatemi di Slot allora Slot come Slot Machine, quindi ludopatia, di cosa parlate? Paola Quattrini Ah, io credevo mi voleste chiedere della regina perché è mia coetanea Non è vero, dai Però dobbiamo dire, siccome qui stiamo parlando di bellezza femminile io ti faccio i complimenti perché oltre a essere sempre la numero uno sulla scena sei anche molto molto bella almeno io ti vedo che dite Lasciamo perdere Ti ringrazio comunque però cerca di mandarmi Paolina presto a teatro perché dobbiamo cominciare è la mia rivale anzi c'è anche qui Mauro Conte che fa mio figlio Ecco, raccontateci un po' Ciao Mauro Ciao a tutti Ciao Mauro, benvenuto Ciao Allora, di cosa parla Slot? Ho visto che ci sono stati un sacco di amici nella prima, insomma c'è grande grande fermento Sì Raccontatevi Sì, ma io aspetto anche te perché Certo Esatto Allora, Paolino Andate voi che siete sul set così Beh, niente Slot comincia da una tragedia perché quella mascalzona di Paola Barale mi porta via il marito Addirittura Che non è neanche un gran figo perché Sì E siamo fatti in pazzo, diciamo così Diciamo così Di come è bella e giovane E mi porta via il marito, io cado in una depressione In una depressione pazzesca E quindi comincia a giocare Con il rapporto con mio figlio Che è Mauro E comincia a giocare, trovo sollievo in questi momenti E naturalmente c'è una rivalità abbastanza importante Però questo è solo l'inizio Ma fate pace, alla fine c'è un finale Diciamo, ecco, vi riappacificate Eh no, questo non si può Non possiamo dire Ma era più teatro Diciamo che Mauro ha un ruolo importante Ecco, allora Paola, dai tu l'appuntamento Teatro Manzoni di Roma Teatro Manzoni di Roma fino al 16 Posso solo dire che ci si diverte moltissimo Ecco, non abbiamo dubbi Quindi al Teatro Manzoni di Roma Vi aspettiamo al Teatro Manzoni di Roma Sino al 16 di novembre Sino al 14 novembre Scusa? 14 14 Ho già sbagliato la data Quindi avete tempo per andare a vedere questo magnifico trio Le due Paole E Mauro Conte Mauro Conte Grazie Paola Quattrini A presto verrò a vedervi Ci vediamo tra pochissimo Vi aspetto qui Arrivo Allora, mai visto una pausa Piena di selfie Storie Andate su Instagram A vedere quello che abbiamo combinato Alba Parietti Allora, venerdì a tale e quale Noi non vediamo l'ora Di vederti nei panni di... Allora, un Mick Jagger Mi eccito da sola Un Mick Jagger Ti vediamo venerdì sera Non vediamo l'ora Più fluida di me Non c'è nessuno Non c'è nessuno Invece, parla banale Veremo a teatro al Manzoni di Roma Al Manzoni di Roma Fino al 14 di novembre Vi aspetto insieme a Paola Quattrini E Mauro Conte Ci saremo Grazie allora Paola Grazie Grazie Rosana Lambertucci Grazie Luca Bianchini Grazie Alba Parietti E grazie a voi Tantissime grazie Più di due milioni Vi devo ringraziare davvero Ci vediamo domani Grazie Ciao